Bambini feriti a Mariupol e ricoverati in ospedale a Zaporizia. Non è chiaro se facciano o no parte del gruppo estratto dalle rovine del teatro bombardato dai russi. Vittima di un'assedio totale, la popolazione di Mariupol è sull'orlo del baratro. Più di 35.000 persone sono già state salvate da Mariupol. Sul luogo del bombardamento i soccorsi sono ancora all'opera. Nel teatro avevano cercato rifugio molti residenti. Finora sappiamo che sono state estratte più di 130 persone, ma ci sono altre centinaia ancora sotto le macerie. Nonostante i bombardamenti continueremo le attività di soccorso. Intanto il Ministero della Difesa russo ha diffuso i nuovi filmati delle attività sul terreno, affermando che tutto si sta svolgendo secondo i piani. Fonti ufficiali ucraine invece fanno sapere che almeno un civile è rimasto ucciso e una decina di persone ferite per un bombardamento russo su Kharkiv nelle prime ore di venerdì. Altre vittime si contano a Donetsk, che è in mano ai ribelli filorussi. Un video diffuso sul web mostra delle immagini girate in un quartiere della città, nelle quali si vedono i corpi senza vita di alcune persone stesi in strada davanti a un edificio raggiunto dalle bombe.